Ciao bambini, eccoci qui al nostro terzo appuntamento di geografia legato agli ambienti naturali. Dopo aver viaggiato insieme tra le montagne e le colline, oggi vi voglio accompagnare in pianura. La pianura è un territorio pianeggiante senza rilievi che non supera i 200 metri di altitudine sul livello del mare. La pianura è attraversata da fiumi navigabili e da grandi vie di comunicazione, come autostrade e ferrovie. In pianura ci sono due tipi di paesaggio differenti, il paesaggio rurale, che è caratterizzato da campi coltivati e fattorie, e il paesaggio urbano, caratterizzato dalla presenza di città, paesi e zone industriali. Le pianure si sono formate tantissimi anni fa e hanno avuto origini diverse. Le pianure alluvionali si sono formate dai fiumi che nel corso dei millenni hanno trascinato e poi depositato sul terreno, ghiaia, sabbia e altri materiali. Le pianure di sollevamento si sono formate dal sollevamento del fondale marino, spinto da forze provenienti dalla profondità della terra. Le pianure vulcaniche si sono formate ai piedi del vulcani, dove si erano depositate la lava e le ceneri irruttate. Un tempo le pianure erano ricoperte da paludi ed estese foreste di latifoglie. Oggi la vegetazione spontanea invece è molto più scarsa. È costituita prevalentemente da tigli, pioppi, salici, robinie e canneti. In pianura troviamo molti animali. Vivono piccoli mammiferi come il ghiro, il riccio, la lepre, il topo e molte specie di uccelli, come la rondine, l'airone cenerino, il merlo e il fagiano. Nelle zone protette ci sono boschi popolati da cinghiali e volpi. Negli stagni troviamo invece le bisce d'acqua, rane e rospi, libellule e piccoli pesci. L'uomo ha abitato la pianura fin dall'antichità e l'ha trasformata adattandola ai propri bisogni. Con il suo lavoro nel corso degli anni ha modificato completamente il paesaggio, ha disboscato intere zone, ha bonificato le paludi, ha costruito strade, ferrovie, ponti, industrie e città. Oggi le risorse economiche della pianura sono l'agricoltura, l'allevamento e l'industria. Le coltivazioni più diffuse sono soprattutto gli ortaggi, le barbabietole da zucchero, gli alberi da frutto come la vite, gli agrumi, i cereali come il grano, il frumento e il mais. Nelle zone più ricche d'acqua si coltiva il riso e il foraggio. L'allevamento è organizzato in modo moderno. Si allevano soprattutto pecore, maiali, mucche e animali da cortile, come galline, conigli, tacchini, per la produzione di carne, latte e uova. Brescia e Bergamo, le nostre città, sono città della pianura padana. La pianura padana, chiamata anche Val Padana, è una regione geografica dell'Italia settentrionale che coincide con il bacino idrografico del fiume Po e comprende le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia di Giulia ed Emilia Romagna. Fu proprio il Po, insieme ai suoi effluenti, a dare origine alla pianura padana, che è una pianura di tipo alluvionale. I corsi d'acqua, scendendo dalle montagne, trascinavano con sé enormi quantità di detriti. La pianura padana si può però dividere in tre grandi zone. L'alta pianura, la bassa pianura e la fascia delle risorgive. L'alta pianura è la zona più vicina alle montagne, caratterizzata da grossi detriti e dove l'acqua penetra nel terreno in profondità e lo rende poco adatto alla coltivazione. Per quanto riguarda la bassa pianura, invece, è la zona estremamente fertile, grazie ad un terreno argilloso che trattiene l'acqua. In questa zona ci sono moltissimi campi coltivati. Tra la zona dell'alta pianura e la zona della bassa pianura si sviluppa la fascia, quella che viene denominata la fascia delle risorgive. Sono delle vere e proprie sorgenti di acqua che sono molto utili e indispensabili per l'irrigazione dei campi. Qui vi lascio due bellissime immagini della pianura, della nostra pianura padana, attraversata da grandi fiumi, da canali, da vie di comunicazione, da piccole città, da agglomerati urbani e da tanti bei campi coltivati. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao bambini, a presto!